Salve a tutti ragazzi, adesso più allegro, sempre i miei classici sponsor, vittoria del Milan per 3 a 2 sull'Udinese, qualcuno potrebbe dire vendetta dell'andata, no in realtà perché all'andata abbiamo concesso tantissimo ai friuliani, a ritorno qualcosa è stata concessa comunque, specialmente il primo gol del vantaggio, Gigio, imperdonabile lì. Per il resto la partita si svolta molto molto bene, che vi devo dire, allora l'Udinese fa un bel gol del pareggio del 2 a 2 dopo che prima ante Rebic si sveglia finalmente, beh in realtà gioca perché l'abbiamo mai fatto giocare, Rebic fa il gol del pareggio, anche una bella azione assist di Conti visto, anche nella mediocrità sei meglio di Calabria, l'ho sempre detto. Poi il vantaggio del Milan con Teo Hernandez, cavallo pazzo, quando stai facendo quelle sul tasse sembrava che andavi a sbattere contro la qualcosa, oh calma te treno, calma te treno. Ma vabbè, il pareggio di lasagna è sì, tutti già pronti a dire, ma vi faccio, com'è la lasagna la domenica? 3 a 2 Rebic, grande azione su assist di Ibra, sempre Dio Zlatan, interviene Dio Zlatan, interviene assist passaggio, Rebic si, scusate se faccio il movimento così, dribbla, si dribbla un loro difensore, non mi ricordo chi, trova l'angolino, go! Io a caso urlavo tutto pazzo, Ante Rebic, Ante Rebic! Grande, grande, 3 a 2 per il Milan, partita che il Milan in sostanza ha meritato di vincere anche perché il gol del 2 a 2 è frutto l'oro, non lo nego, però il gol del vantaggio è un errore nostro, quindi c'è senza di quello, non è che l'Udinese ha giocato comunque molto bene, per carità, però il Milan ha saputo, grazie a Gigio, Gigio ha saputo difendere i rossoneri, la porta rossonera, i voti in pratica. Gigio, 6 e mezzo, nonostante la papera buone prestazioni, in difesa Romagnoli e Chier, entrambi 6, Chier 6 e mezzo per il, anche fortuito in realtà, la difesa finale, con T6 per l'assist, però devi migliorare molto, Hernandez 7 e mezzo per il gol, centrocampo, Chessy 5 e mezzo, Castiglieco 6 e mezzo, Buonaventura 5, Krunic è entrato 6 pure lui, Chi altro c'era Benazer 6 e mezzo, Dio Zlatan 6 e mezzo pure tu, Ante Rebic 7 e mezzo, il migliore assieme a Matteo Hernandez, e va bene, per il resto non ci sono altri, beh, Pioli, vabbè, stavolta 6 e mezzo, non voglio darti di più, bella partita da parte dei rossoneri, non ho altro da dire sinceramente, non ci sono altri voti da dare, ah, Leao, Soteleao, scusate, Leao, 6 e mezzo anche lui, bene, complimenti ragazzi, continuate così, se ne forza Milan, ci vediamo, seguitemi su Instagram, bella!